L'accusa è pesantissima, tentato omicidio aggravato dalla premeditazione destinatario dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della locale procura della Repubblica e il giudese Graziano Vella, 26 anni, arrestato dai carabinieri del reparto territoriale e ritenuto l'esecutore materiale delle gravissimi episodi di sangue che si è registrato nel marzo dell'anno scorso. Deve rispondere anche di porto abusivo di arma da taglio in luogo pubblico. Era la tarda mattinata del 23 marzo di un anno addietro quando presso il mercatino settimanale di via Madonna del Rosario un giovane ambulante gelese di 27 anni, Carmelo D'Angeli, terminata l'attività di vendita ed in procinto di fare rientro a casa fu raggiunto da tre profonde coltellate sferrate in direzione del fianco. Miracolosamente grazie alla corporatura robusta e nonostante i colpi gli fossero stati inferti in punti vitali, la giovane vittima fu trasportata al pronto soccorso, sottoposta ad un delicatissimo intervento chirurgico, D'Angeli riuscì a salvarsi. L'aggressore fece perdere le sue tracce. Una serrata e complessa attività di indagine che ha preso spunto dalla denuncia presentata dalla vittima e dalle testimonianze raccolte nell'immediatezza si è sviluppata con la sistematica ricostruzione del percorso svolto dall'aggressore con la visione delle telecamere di videosorveglianza e successivamente dopo aver individuato l'auto utilizzata dalla coltellatore per raggiungere il luogo del delitto e per fuggire subito dopo con l'identificazione dell'autore del gesto. I carabinieri hanno analizzato attentamente i frame estrapolati. Si nota una Fiat Punto colore grigio scuro fermarsi in via Siragusa, angolo via Mongibello nei pressi del mercato rionale. Dall'utilitaria scende un ragazzo che raggiunge le bancarelle e nella confusione generale sferra le tre coltellate. Per fuggire compie il tragitto inverso. I successivi accertamenti hanno permesso ai militari dell'arma di dare un nome ed un volto all'aggressore alla base del gesto criminoso rancori di natura personale.